Buonasera, vi avvicinate per quattro dia, siamo in diretta con Vositano News, il vostro stand ci attira e ci accattiva Camillo Sorreferano, perché invece di trovare il fondo, la legna, trovo due pendole, che deve succedere in queste pendole? Facciamo le pizze fritte, una ricotta e cicoli e una la buttanesca con arice, bellissimo, ma queste le troviamo anche nel ristorante? La ricotta e cicoli sì, infatti l'altra non c'è nel menù ma serve a far conoscere ancora di sì, bellissimo, i nostri complimenti per questa variante e soprattutto siamo alla seconda sir, ma mi hanno detto che già dalla prima sir vi hanno dato addosso, è vero chef? Adesso vi vedo attrezzati perché c'è una bellissima squadra di distributori, buonasera ragazzi, per una foto di gruppo avvicinatevi, giratevi, ragazze toglieteci la schiena, fate di tutto, ah non la faccio l'esco, no siamo noi che portiamo l'altro, ah benissimo, ma quando saranno pronte queste pizze? Alle sette, alle sette, benissimo, allora ci vediamo a tra poco, tenetevi pronti perché il pubblico vi darà addosso, la pizza fritte sta avvicinando, auguri, a tra poco, saluti Va bene Ecco, pizza al metro Buonasera buonasera, buonasera a mezzo a metro, questo signore è abituato ad avere dietro di sei bocche di forno, quattro, adesso qua, poi invece vedi una bocchina piccola, ce l'ha fatta da quando andare alla piazza? perché ci hanno detto che vi hanno dato a donna e senti ma se state qua poi nel locale 10 di 1 pomodorino giallo vince la vostra farina preferita perché io so che ogni pizzaiolo ha una preferenza particolare ha caputo vincente ci dite i vostri nomi i nostri auguri i nostri complimenti sempre più in alto buona serata buona serata buona serata come state dove state oa si salta in bocca oa si salta in bocca da questo forno che cosa uscirà fuori? si salta in bocca con la mortadella con nutella e la pizza con purè di patate aromatizzata al limone e mortadella bellissimo è stato il successo di quest'estate la pizza aromatizzata al limone la grattugiatina di buccia di limone con un po' di essenza di stasera state qua domani sera state qua ma poi normalmente dove vi trovo? mi date il vostro indirizzo lo vogliamo dire ai nostri lettori? via Luigi Serio 3 vi trovo qua 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 auguri, saluti grazie che bel sorriso che hai grazie anche tu grazie ragazzi e voi dove siete diretti? eh che ho passato un giro ma vi vedo col grembiule noi stiamo agli stand questi qua gli ultimi stand gli ultimi stand che cosa preparate? eh ad esempio a me c'è margherita e pizza con patate e funghi e spola dove sta il vostro stand? eh in fondo ah in fondo di qua sì sì auguri grazie ragazzi cowiedli c'è margherita c'è margherita Grazie.